Sono passati i 100 giorni, 100 giorni che per me sono stati dedicati a capire fino in fondo i meccanismi, dove migliorare. In questo contesto ho preso una decisione che è quella di trasferire la delega che io avevo a questo punto per la finanza e bilancio a Chiara Mio. Non è un nome che dovrebbe sorprendere, Chiara Mio è stata l'assessore alla finanza e bilancio per 5 anni, quindi è persona di grande esperienza professionale e politica. Abbiamo discusso proprio con lei anche il modo migliore di come usare il nostro tempo, abbiamo altri fronti caldissimi che in primis toccheranno proprio il mio tempo come sindaco, che sarà quello dell'ospedale, quindi è stata una discussione fatta anche all'interno della Giunta e con la maggioranza per essere pronti a superare e affrontare queste che sono opportunità, dovevamo ridistribuire il nostro carico di lavoro in funzione delle competenze. E questo è quello che abbiamo fatto proprio chiedendo a Chiara Mio di prendersi anche questo carico di lavoro in più, ma che è stato accettato da Chiara Mio proprio con spirito di sacrificio e sapendo che può contare su una solida conoscenza e esperienza che le deriva dagli anni scorsi, del mandato precedente. Ringrazio il sindaco, l'aggiunta e la maggioranza che hanno indicato nella sottoscritta la persona per portare avanti la delega al bilancio. Come ha detto il sindaco, si tratta di un riposizionamento, dopo aver dato il varo e aver identificato le priorità, aver inquadrato come vuole che vengano gestite bilancio e finanze, il sindaco ha ritenuto che la sottoscritta potesse più operativamente, operativamente, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, seguire da vicino la delega. È una delega che avevo fino a qualche settimana fa, per cui non è nuova e quando il sindaco chiama ho risposto obbedisco e quindi ben volentieri la porterò avanti. Segnalo che siamo già all'opera per dare un maggior taglio interattivo, orizzontale e non solo per competenza specifica verticale a questo bilancio. Bilancio che non sarà facile perché, come sapete, le risorse assegnate agli enti locali sono in diminuzione. Per cui la sfida che ci aspetta è notevole. Grazie a tutti.